1952, Teatro La Scala di Milano, si sta rappresentando il trovatore di Giuseppe Verdi, tra gli interpreti c'è anche Maria Callas, e tra gli spettatori c'è un certo Lucchino Viscotti, che si trova in un palchetto in prossimità del palcoscenico, e vedendo l'opera da questa posizione particolare, questa visione trasversale che ha dal suo palchetto, ha l'idea geniale di fare un nuovo film, e questo nuovo film sarà Senso, che uscirà nelle sale nel 1954. Susi Cecchi D'Amico, collaboratrice di Lucchino Viscotti, appresa questa notizia per la realizzazione di un nuovo film, decide di andare a tingere il punto immateriale, il racconto, da una novella di Camillo Botto, scritta nel 1883, che si trovava all'interno di questo libro intitolato Storielle Vane, pubblicato nel 1883 e ascrivibile a quello che è lo stile, appunto, la poetica della scapigliatura, e proprio in questo libro l'ultima novella si intitolava Dallo scartafascio segreto della Contessa Livia. C'è un racconto di un'anziana contessa che raccontava un suo amore di gioventù per un tenente austriaco durante la guerra di indipendezza. Lucchino Visconti e Susi Cecchi D'Amico iniziano subito a rielaborare questa vicenda e presentano l'idea alla Lux Film, che decide di finanziare con ingenti capitali la realizzazione del film. Le riprese dovevano durare soltanto tre mesi, ma vista la lentezza e la caparbietà e la precisione di Lucchino Visconti, le riprese durano ben nove mesi e verso la fine delle riprese i capitali iniziano ad esaurirsi. La vicenda rispetto alla novella di Camillo Boito viene rielaborata da Visconti. L'azione è ambientata nel 1866, nei mesi che precedono la famosa battaglia di Custozza, e proprio Custozza doveva essere il titolo, diciamo così, del film. Ed è la storia appunto di una contessa non più giovane, interpretata da Lida Valli, che si chiama Livia Serpieri, che si innamora di un tenente austriaco, un certo Franz Muller, interpretato da Farley Grange. La donna naturalmente è sposata con un nobile austriaco e allo stesso tempo cerca anche di aiutare un cugino che si prodica per la causa italiana, per l'indipendenza appunto dell'Italia. Il film è l'apoteosi del melodramma o del melò, come lo chiamano i francesi, ed è, diciamo così, la somma di quello che è il melodramma teatrale e il melodramma musicale, cioè delle storie con, al centro dell'azione, degli amori molto contrastati e che molto delle volte vanno a finire in maniera molto tragica. Le scene hanno all'interno quelle che vengono definite le scene madri, cioè delle scene con alto tasso di drammaticità e l'appartenenza a questo genere lo si vede fin dall'inizio del film, quando nell'incipit vediamo una rappresentazione alla Fenice di Venezia del famoso trovatore di Giuseppe Verdi e ad un certo punto la macchina da presa non inquadra più come avviene di consueto il palcoscenico dove si sta svolgendo l'azione, ma comincia ad inquadrare quella che è la partea e tutti i vari ordini di palchetti dove si vede molto bene quelle che sono le varie differenze sociali. Per cui il melodramma non è più soltanto in scena ma è nella vita, come dicono anche i protagonisti all'interno del film. Proprio questa pellicola e proprio l'incipit del film è servito anche per il lavoro di restauro e recupero della Fenice di Venezia dopo il gravoso incendio avvenuto qualche anno fa. Senso di Lucchino Visconti è un'opera molto complessa, ricca di riferimenti e di sottintesi tipici appunto della regia e della poetica di Lucchino Visconti. Ci sono molti riferimenti a quello che è il teatro, la pittura e alla musica appunto dell'Ottocetto. Dal punto di vista visivo invece ci sono degli elementi che ritornano costantemente come lo specchio. Molte volte i protagonisti, sia Livia Serpieri che anche Franz Mahler, vengono ritratti appunto allo specchio o comunque con dei giochi in cui appaiono appunto specchiati. Questo per sottolineare diciamo così il doppio che alleggia all'interno di questi due personaggi, in particolare in quello di Franz Mahler che è sicuramente un personaggio molto molto amiguo. E poi anche sempre dal punto di vista visivo abbiamo appunto la contessa Livia Serpieri interpretata benissimo da Lidavalli che appare in questi bellissimi abiti ottocenteschi con il capo quasi sempre coperto, per cui con delle velette, dei veli, dei cappelli. E sono proprio questi sciagli e queste velette che tentano di nascondere questo senso di colpa che ha la protagonista. Naturalmente nel film il colore predominante è il rosso, questo rosso appunto che ricorda appunto il sangue e l'amore e comunque anche la passione e tutto dal punto di vista anche scenografico è ricostruito perfettamente da Ottavio Scotti che porta appunto in scena tutta una serie di mobili, accessori eccetera originali dell'Ottocento. Lugino Visconti era una persona molto pignola e si racconta appunto che nei vari cassetti, negli armadi che apparivano in scena proprio del film Senso, all'interno c'erano realmente, ad esempio nella cassettiera c'erano i fazzoletti, all'interno dell'armadio c'erano realmente degli abiti ottocenteschi e poi sul set voleva fiori freschi ogni giorno insomma. E proprio queste scenografie trasmettono anch'esse quella che è il senso di affanno, di oppressione che provano i protagonisti. Infatti se voi osservate quelli che sono gli arredamenti e gli ambienti, soprattutto nella seconda parte del film quando la protagonista si recca in una villa di campagna, la famosa sequenza di Aldeno che in realtà è ambientata a Lugo di Vicenza in Villa Godi Malinverni e in questa sequenza vedete proprio tutti questi mobili, questi tendaggi pesanti che tendono un po' a soffocare quelli che sono appunto i protagonisti. Molti sono i riferimenti alla pittura dell'Ottocento che fa Visconti come il celebre bacio di Hayez oppure altri quadri soprattutto di guerra e altri invece come la Toilette del mattino di Signorini che è un altro quadro appunto della metà dell'Ottocento. Il finale doveva essere diverso, non vi svelo come sarà il finale, ma nel finale progettato in un primo momento da Visconti ci doveva essere un tenente austriaco ubriaco che appunto in questa scena notturna doveva gridare alla fine del film Viva l'Austria. Il film presentato alla mostra del cinema di Venezia nel settembre del 1954 ebbe delle pesanti critiche e anche di pesanti tagli appunto dalla censura. Si tratta però di un vero e proprio capolavoro del cinema italiano che ci permette di rientrare in quello che era la metà dell'Ottocento, cioè quando un intero mondo, come dice appunto il protagonista all'interno del film, stava per essere spazzato via da questa ondata di ribellione e di rivolta che avrebbe cacciato via tutto quello che era il mondo degli aristocratici, sia italiani ma anche austriaci.